Il Master in Health Communication per i ginecologi è il primo Master in Italia che vuole aggiungere una nuova competenza ad una categoria specifica di medici, in questo caso appunto i ginecologi, ed è la competenza comunicativa. Nel nostro lavoro, che è cambiato e sta cambiando molto, diventa essenziale avere anche una buona comunicazione, cioè non basta saper fare, avere una buona competenza da un punto di vista medico, ma saper comunicare, quindi come dire, cosa dire e adeguarci a chi abbiamo di fronte. Noi viviamo nella pancia di un'enorme rivoluzione comunicativa, simile all'invenzione della scrittura migliaia e migliaia di anni fa, che ci cambiò la testa, ci cambiò il modo di pensare, ci cambiò il modo di lavorare. Ora siamo nella stessa identica situazione. I social possono costituire uno strumento importantissimo per raggiungere i giovani e i giovanissimi, perché in pratica parlare per esempio di malattie sessualmente trasmesse, di infezioni sessualmente trasmesse ai giovani, è proprio fondamentale e estremamente importante riuscire a fornire a questi ragazzi informazioni corrette, che rispondano a basi scientifiche e però con un linguaggio, con una capacità comunicativa adeguata ai loro interessi, alle loro esigenze, attraverso gli strumenti giusti. Sottolineo che l'importanza di formare e di informare come in medicina si possa comunicare è diventato in questo momento un impegno forte per la nostra società scientifica, un impegno forte per la nostra professionalità in campo sanitario.